Ben ritrovati e come sempre un cordiale saluto da Giuseppe De Vittis. Sarà ancora una giornata calda ma con un calo delle temperature temporaneo nella seconda parte della giornata o meglio dalla tarda mattinata al pomeriggio alla prima serata. Perché? Perché la mattinata inizierà l'insegna del tempo piuttosto tranquillo con nuvole però in aumento, le zone alpine e prealpine, nuvole sempre più minacciose in mattinata, entro le ore centrali del giorno rovesci di pioggia e temporali che sfileranno, guardate, nella seconda parte del giorno su zone di pianura, rovesci temporali, vedete, sparsi, attraverseranno anche le pianure e quindi insomma attenzione ai rovesci di pioggia e temporali che potranno essere anche di moderata o di una certa intensità. come detto con temperature che caleranno nei momenti in cui si verificheranno le precipitazioni parlo delle temperature massime, minime con poche variazioni, minime con poche variazioni. Insomma prendiamoci questo sussulto instabile e quindi attenzione ai rovesci, ai temporali pomeridiani per i pomeridiani o comunque nella seconda parte della giornata. Io per il momento mi fermo qui, buon proseguimento, arrivederci.